Mi ha messo il cazzo in faccia, raga mi ha messo il cazzo in faccia Che cazzo mi sta facendo? Cos'è sto schif- No raga mi- Let's go baby, come vedete qua dietro di me c'è già la valigia pronta per la Francia Ho già registrato questo video e come avete visto dal titolo è un video di Dark Souls 3 Come avete già visto dall'intro E beh, quello che vi voglio dire è che ci tengo molto a questo video Il titolo è molto simpatico, ho montato un pochino il video Ma proprio appena appena ho messo diciamo il best of di quando ho giocato E poi ho iniziato in streaming a giocare a Dark Souls 3 Iniziando in New Game Plus E devo dire che è molto divertente il gameplay È molto divertente quello che dico e che faccio Quindi mi piacerebbe portarlo anche qui sul canale di YouTube Se questo video avrà successo sicuramente porterò quindi Dark Souls 3 qui Facendo il mio New Game Plus personale Ovviamente con le scelte e le decisioni prese anche da con streaming Quando lo facciamo in streaming E ovviamente con i tagli un montaggio un po' divertente Classico mio, un po' trash Un pochino strano, un pochino burino di Roma Quindi quel montaggio un po' strano che vi piace tanto e vi fa ridere Quindi che vi fa passare questi 10-5 minuti quant'è di video Velocemente quindi spero vi piaccia Spero lasciate un like Spero supporterete questa serie su Dark Souls 3 Che potrebbe essere qualcosa di carino da portare Almeno una puntata a settimana Let's go baby Basta non parlo più vi lascio il video Apriamo di andare da questo che sta qua Dal tizio mago E dove cazzo è il tizio What the fuck Qua c'era uno che mi vendeva la roba Oh No io gli spacco tutto Io gli spacco tutto Porco due Porco due Gli spacco tutto a sto coglione Dov'è il tizio? E' sto cuore non vi dico Double G No Ahahahah Lol Fuori dal cazzo Via Via Merda Oddio arriva la palla Lol Non c'ho incantesimi Cioè ma sta palla sale fino a quassù Fa un culo Che bello Guardate ragazzi poi com'è l'ambientazione La grafica Le luci Cioè questo è il bello DDS No porca troia Mamma mia meno male Mi serve 10 in fate 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 Kate 65 bombe Andiamo a farmà Dace gli XP O dace gli XP Ah così no eh Iniziamo malissimo Malissimissimo Pe 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 Fanculo a mamma da Chi deve morta la froce Dai l'esora Non è vero Ah fanculo C'ha un moveset C'ha un moveset da bvp Ovvio Let's go bitches Fab fam Fab fam Allora Qua in questo postaccio brutto Questi mostri Cioè sono penso la cosa più odiosa Di Dark Soul Ecco tu Quanto rompono il cazzo Questi Come lo fermo Come lo ammazzo A quel dragone Lassopra Ok Nooo Ho sbagliato strada Ma porco Due I mostri più brutti Di Dark Soul Questi Ma che vai di frecce Ci metto un'ora Con le frecce Brutti malati Ripperoni Ripperoni Power 6 per me Numero 1 Che belle le live così Perché sono una rifra ignoranti Allora Poweroni Ripperoni Sei per me Mi ha messo il cazzo in faccia Che m'ha detto Di Advanced Stai fuori Fox A fare Advanced Warfare Mena vita L'ho lanciato quel gioco Poweroni Ripperoni Sei per me Numero 1 Io ancora non ho capito Dove cazzo Devo andare Per Prendere la fottutissima Spada Della mazza merda Ripperoni Poweroni Sei per me Numero 2 Poweroni Ripperoni Power Sei per me Numero 2 Quindi ti prende la depressione Ok Tutto tranquillo ragazzi Tutto tranquillo Aspettate Con calma si ragiona Che cazzo mi sta facendo Cos'è sto schifo No raga Mi ha messo il cazzo in faccia Raga mi ha messo il cazzo in faccia Pian Aia mi ha messo il cazzo Aia porco 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 che male